517 grammi Per me è eccezionale, almeno per me, ci sono anche di più grandi ma è una cosa che capita solo una volta nella vita a pochi A trovare questo tartufo record è stato Luigi Nonni, ex vigile in pensione di 76 anni, in un terreno vicino ad una quercia nel comune di Fano Merito soprattutto della sua cagnolina pippa di 4 anni, fiuto finissimo, che questa mattina poco prima delle 7 gli ha regalato un'emozione fortissima e inaspettata È un'emozione unica, provarla è una cosa indescrivibile, bisognerebbe provarla di persona per poter capire quale effetto scatena un tartufo del genere Luigi Nonni è un uomo che ha la passione per i boschi e la natura nel suo DNA Esperto cercatore di funghi, con numerosi premi vinti alle spalle, tra cui un primo posto alla mostra micologica di Fano nel 1984 E di cacciatore di beccaccia e la sua specialità, tanto da meritarsi il soprannome di beccacciaro Fino alla conversione arrivata negli anni 80, in cui decise di appendere il fucile da caccia al chiodo Da appassionato cinofilo si è messo ad addestrare diversi cani da tartufo, tra cui la madre della giovane pippa Con risultati che sono sotto gli occhi di tutti E lei con un altro tartufo, insomma Era un giorno, sì, di qualche anno fa, di due o tre anni fa, questo è il più grosso e tutti gli altri, tutto in una mattinata Un tartufo così, se venduto, potrebbe fruttare anche 2000 euro, ma la soddisfazione di averlo trovato a due passi da casa, quella non ha prezzo